Nome e cognome Marina Piller Ilaria De Bertoris Virginia De Martin Professione Forestale Poliziotta Atleta di sci di fondo Soprannome Mari Ila Ginni Un aggettivo per definirti? Lunatica Oh, andiamo avanti! Precisina Un aggettivo per definire le altre? Ilaria Vanitosa Virginia Riflessiva Eri con la testa un po' per aria Virgi tranquilla Ilaria Femminile Marina Tenace Il giorno più bello? Domenica Spero che venga ancora un giorno più bello Ce n'è tanti La gara più bella? Davos I mondiali, la team sprint Quella che farò Un tuo pregio? Non sono gelosa, non sono possessiva Che sono scherzosa, divertente Essere forte Il giorno più brutto? Lunedì Non so Anche di questi ce n'è tanti, però segnalo Tuo sport preferito? Nuoto Sci da fondo Sci di fondo e scontato? La gara da dimenticare La dieta skating dei mondiali Davos Più di una Cosa guardi in un atleta maschio? Sedere Gli occhi Tutto Un tuo difetto? Permalosa Che sono un po' egocentica Essere precisina Un loro difetto? Per troppo perfezioniste Che la Mary è un po' egocentrica E la Virgi un po' troppo power flowers, come dice lei No, mi fate dire cattiverie Un loro pregio? Simpatiche Che sono tutte e due molto di compagnia Di Laria la simpatia Di Marina la tenacia Hai piercing o tatuaggi? Due piercing e due tatuaggi Una roba fenice e una farfalla? No, niente No, niente Il tuo sogno? Una medaglia alle Olimpiadi Eh, le Olimpiadi Cioè La prima cosa che fai il giorno della gara quando ti svegli? Gioco a Candy Crush Non si può dire Niente in particolare Normale Mi alzo, faccio colazione Vado un po' a correre E poi facciamo la gara Aprire gli occhi L'ultima cosa che fai il giorno della gara quando vai a letto? Gambe all'aria Niente Sempre la normalità Ringraziare Dove ti rilassi? Centri, benessere, saune A letto? In montagna Con chi? Qualsiasi persona un po' amica Eh, a volte da sola, a volte in compagnia Cavoli miei Il tuo lato migliore? Socievole Eh, non so se è il destro o il sinistro Devo ancora scoprirlo La forza Il tuo hobby? Io giocare a Candy Crush Eh, shopping Eh, arrampicare Da grande cosa farai? Eh, la fondista ancora per qualche anno Poi ci penserò più avanti Non lo so ancora Chi lo sa? Viaggerò per il mondo Saluta le tue compagne E fai loro gli auguri per la prossima stagione Nel tuo dialetto No, non possiamo fare questa cosa Io non so parlare bene il sappadino e tedesco Faccio figure di merda Vi prego Oh, è l'italiano Ma non mi viene il dialetto? Ciao Oh, è Ilaria E... Ciao Marina Save Dawn E... Boh Non so cosa dire Tim roi No 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 Non